A SWEET GANG! SWEET GANG! SWEET! 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 Io sono qui per convertirvi ragazzi! Buonasera Aris! Ciao Defenders! Vieni Stecco! Ciao Ariside! Noi siamo la SWEET GANG! La gang dolce! Eccoci! Quindi non facciamo male a nessuno ma cerchiamo solo di divertirci! SWEET GANG! SWEET! 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 Oddio Paolo Ma sta sotto a letto Paolo Paolo che ti senti? Non è che stavo lì così a gradarmi i p***i Mi veniva quando io prendevo delle vo... Voglio mandare messaggi Buonasera dottor Abdul si prende un warn ed ur No 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 non te lo prende Non te lo prende Non te lo prende Non te lo prende Stai calmo Stavamo dicendo Stavo dicendo che ti compro una pistola Eh Io ti insegno pure a sbarrà Eccoci Stiamo arrivando Mi piace la scoglierà Stai arrivando ragazzi Sweet gang Sweet gang Stavo per morire? Sì ragazzi Il posto Voto 10 Che si fa? Il bagno Il posto Ma scusi Ma lei ha il pipo Quindi non vi castrano Fammi chimica Oh 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 Perde diobolo Incredibile Hulk Andiamo raga dobbiamo fare cose Andiamo 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 a comprare un ferraccio all'armeria dai Andiamo 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 Corriamo andiamo Oh 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 Dimmi tu Dimmi Ci fa? Aspetta venga qui avvocato ci penso io Venga con me Dove andiamo? Venga qua venga qua Si inginocchi davanti a me signor avvocato Ho un'idea Se riesce Ok perfetto Ce l'ho fatta eh Ha visto? Ce l'ho fatta Non ricordavo il muscolo ma l'ho ricordato Signor Dimmi di Una bella Non posso vedere il suo fish Una bella God and shower Shower e via Signor Dimmi di questa roba mi accita In un modo pazzesco Vado a tuffarmi in mare Signor Dimmi di Lo vedo un po' strano Che si fa? Che si fa? Che si fa? Andiamo a prendere l'arma Andiamo a prendere l'arma E' da bello il fish nell'acqua Abbiamo scoperto anche questo ragazzi Si può fishare nell'acqua Ormai la conoscenza di questo server è illimitata Pote Vieni con me Vieni con me Vieni con me Vieni con me Vengo anch'io Ah tu sei stronzo E io normalmente lo piccino Lo picchio E' un rosicone Perché l'ho steso E allora ha chiamato le guardie Ha chiamato le guardie E mi ha fatto di usarci le 3k Sì Demetrio Demetrio Però devi stare più No devi stare tranquillo Perché noi ora dobbiamo rigare dritto Ok Perché abbiamo nemici potenti alle nostre calcagna Quindi stai calmo Mi raccomando Adesso torna lo scammone Ascoltami Sì sì Se ti ho detto di stare zitto là sotto È perché c'era una persona Dei comorroidi Che stava lì sotto Attenzione Che facevate quella Cosa? Un cazzo Cazzo allora Fammi finire di parlare Un brivido sulla schiena No perché tu mi hai fatto No La fattura la devo pagare con quei 3k Ma scusi tu sei uno scammone Prima ti sei allo scontro Poi riprende E poi vuoi ricordi Lei è uno scammone Perché verso la fine Io ti stavo anche riempendo di mazzate Ho alzato le mani e ti ho detto Guarda Fermiamoci prima che Facciamo del male E tu Si fa presto Si fa presto A dire C'era uno dei comorroidi Però poi bisogna vedere Aspetta la sconfitta Aspetta 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 In difesa In difesa di Ray Che io ho insultato La prossima volta ci divertiamo Ci piglierò di vincita No ascolta Ray No 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 Andiamo a casa mia Andiamo a casa mia Che ho le munizioni Jeremy Mettimi il segnalino Ah questo è Ok Non so Non ho mai fatto un viaggio nell'età Fatto Interessante Cioè l'ho fatto Il problema è che mi sa che non lo vedi Eh no non lo vedi Ho fatto cacca? Eh no no Aspetta che faccio una cosa Oh Oh No No Penso si sia No 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 Massimo Sì sì per il mio compleanno me sono vestito a festa Oh auguri auguri Grazie 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 Tutt tone Allora Adesso Ma questo saranno un compleanno Arcaisco sì sì ovvio arcaico 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 non so se come cazzo si fa a twittare non ho mai diventato invitato ah no ho twittato, ho twittato, ho twittato adesso sono i telefoni Bangladesh, ah ok, vero Mr. Pink, ragazzi chiamate più invitati possibili, mandate messaggi a chiunque sì sì ho mandato tutta la rubrica vanno anche a tenda ci siamo eccolo eccolo, ecco Demetrius ragazzi Demetrius libero Demetrius libero ci starebbe qualcuno a sparare un corpo eh ragazzi Demetrius libero Demetrius libero Demetrius libero Demetrius libero Demetrius libero Demetrius libero French ball dai Demetrius libero Demetrius libero ragazzi dai bisogna invadere la caserma dai 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 non si chiede in basiamo vai Demetrius libero 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 Attenzione, mi ha scritto Darren e mi ha scritto un messaggio in stile gomorroide in napoletano stretto C'è qualcosa che non va secondo me Oh fratemi, mi dispiace ma sto inguaiato Si sentì me dove Ah, la lingua degli dei Aiaia, c'è qualcosa che non va ragazzi Una lingua un po' arcaica Una lingua arcaica E' incredibile Avete visto il video di Lesghede, questi momenti sono stati rubati dal canale di Dario Moccia Twitch, per vedere nuove clip, iscriviti al canale di Lesghede, se invece vuoi seguire le live, beh, non devi far altro che guardare tutte le sere Dario Moccia sul canale Dario Moccia Twitch Andate a fare in culo